oroscopo di domenica 12 aprile buona pasqua ariete a pasqua avrai un buon avvicinamento alle cose nuove della vita preparati ad affrontare le sfide i tuoi sforzi saranno finalizzati per il futuro non dimenticare di rivitalizzare e coccolarti in mezzo a tutto questo amore e romanticismo toro cerca di sfruttare al massimo la giornata qualcuno ha bisogno del tuo incoraggiamento è comunque un momento felice da vivere in casa con i tuoi cari e ricorda il tuo motto un nuovo oggi è meglio di una gallina domani gemelli una pasqua davvero splendida si sciolgono molti nodi soddisfazioni per chi vive in coppia se invece siete single non piangetevi addosso prendete spunto da chi è simile a voi oggi è pasqua la malinconia può attendere cancro oggi nel giorno di pasqua puoi facilmente vedere ogni cosa nel suo insieme e allargare la tua visione di vita mantieni la tua concentrazione dividi tutte le tue energie su di essa amore alla grande cogli questa opportunità e divertiti con il tuo partner leone a pasqua nonostante l'obbligo di restare a casa tutti i tuoi sforzi per la carriera e la vita personale stanno arrivando al culmine belle novità e un gran successo per te due passi intorno a casa con il tuo partner porteranno serenità e gioia vergine a pasqua lascia che la tua mente domini il cuore canalizza la tua energia insomma lasciati andare attenzione solo agli eccessi a tavola domani è pasquetta e si ripete non dimenticarlo bilancia in questa pasqua ti senti in grado di risolvere qualsiasi situazione stai curando giustamente la tua persona sia dal lato estetico che nell'anima chi è ancora single deve attendere con pazienza scorpione in questa pasqua ti senti pieno di energia e con molti stimoli positivi per il futuro devi solo assicurarti che questa tendenza non si esaurisca la tua relazione sentimentale è un po complicata e c'è bisogno di chiarimenti sagittario a pasqua anche per te arriva il momento di prenderti cura del corpo e dello spirito nonostante l'obbligo di restare a casa riesci a socializzare molto bene e ricorda la tua regola d'oro ascolta il tuo cuore e mantieni l'autostima capricorno una pasqua dove insorge un po di confusione nella tua vita sentimentale niente di particolare ma la persona che è con te deve guidarti un po sulla retta via la serata scorrerà poi senza nessun intoppo attenzione a quello che mangi e alle quantità acquario una festa di pasqua così singolare non l'avevi mai trascorsa ma proprio per questo riesci ad apprezzare i lati della vita che avevi lasciato in secondo piano condividi questa pasqua con il tuo lui e la tua lei sarà davvero molto utile per entrambi pesci con la fantasia arti pure per un viaggio mari monti divertimento a go go la realtà è che anche oggi devi stare a casa comunque sia cerca il lato positivo goditi un po di sole abbraccia la vita pasqua è la giornata giusta per rilassare corpo e mente